Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto della stazione saldante ad aria calda con la realizzazione dello schedino di preamplificazione, ovvero quel circuito elettronico che prende il segnale di tensione in uscita dalla pistola ad aria calda, ovvero dalla sua termocoppia, e lo preamplifica per poter essere letto in ingresso dal micro. Il motivo per cui il micro non può leggere direttamente la tensione in uscita dalla termocoppia è che questi valori sono davvero molto piccoli. Facciamo un esempio. Se il nostro micro fosse un micro che ha una scala di lettura da 0 a 5 volt ed è un 8 bit, vuol dire che i suoi valori, che sono discreti che puoi leggere, sarebbero il risultato di 5 volt diviso 1024, ovvero intorno ai 4 millivolt a divisione. Essendo che i valori letti dalla termocoppia sono valori dell'ordine massimo, come adesso vi faccio vedere, di 20 millivolt, in pratica il micro sarebbe in grado di distinguere 3-4 valori su un range di temperatura di circa 600 gradi, quindi è poco utile, poco maneggevole usare dati con una discretizzazione così ampia. Quindi è necessario preamplificare quel valore di tensione, in modo che il range di valori letto dal micro sia sempre di più preciso. Per capire che guadagno deve avere il nostro circuito di preamplificazione, riporto qui una tabella che ho trovato online delle varie termocoppie esistenti. Ora, io non so che termocoppia sia inserita all'interno della pistola d'aria calda, ma ragionandoci un po' posso intuire quale di queste sia, ovvero per quanto riguarda le termocoppie di questa categoria, io escluderei che siano presenti dentro quella pistola. Perché? Perché queste tre, queste prime tre, la R, la S e la B, sono in pratica termocoppie con uno dei due elementi in platino, quindi dubito che vadano a mettere del platino dentro quella pistola, soprattutto per il costo di queste termocoppie. La termocoppie C, per lo stesso motivo, è fatta con un elemento in tungsteno, e anche questa è molto costosa. Medesima cosa per quest'altro tipo di termocoppie, ovvero la E e la J, sono termocoppie anche queste costose. Perché? Perché danno in uscita già elevati valori di tensione, quindi hanno bisogno di stadi meno sofisticati per essere rette, e quindi a loro volta sono più costose. In mezzo troviamo quelle più economiche, e che credo siano presenti in quella pistola. Anzi, nello specifico, credo che sia presente la termocoppia K, in quanto, in generale, tutti i prodotti cinesi, all'interno, hanno questa termocoppia. Quindi, una volta intuita quella che può essere la termocoppia presente nella pistola d'aria calda, e sapendo che le altre stazioni saldanti commerciali che si comprano hanno valori di temperatura massima di 500 gradi, quello che sono andato a fare è semplicemente ad intersecare la linea dei 500 gradi con la linea della termocoppia K, ed esce fuori che a 500 gradi questa termocoppia genera, fra i suoi due elementi, una tensione di 20 millivolt. Quindi, una volta noto il valore massimo di tensione in uscita dalla termocoppia, e sapendo che il circuito di preamplificazione è alimentato a 5V, è facile, facendo la divisione, capire che questo circuito dovrà avere un guadagno di 250V. Quindi, il circuito che ho scelto per realizzare lo stadio di preamplificazione altro non è che il classico circuito con un amplificatore operazionale messo in modalità non invertente. Quindi, ho già simulato questo circuito su SPICE, abbiamo che nell'ingresso non invertente abbiamo la tensione massima che esce dalla termocoppia a 500 gradi, ovvero 20 millivolt. E poi, grazie a questa rete di feedback di queste due resistenze, otteniamo che il guadagno in uscita è pari a 251. Infatti, ricordando la formula di questo circuito, abbiamo che il guadagno è uguale a 1 più la divisione di questa resistenza e questa resistenza. Quindi, sarebbe 1 più la divisione di 250 diviso 1, che fa 251. Ovviamente, questo 251 non è a caso, ma esce fuori dopo aver effettuato dei calcoli. Ovvero, abbiamo detto che la nostra temperatura massima deve essere 500 gradi, quindi a 500 gradi devono corrispondere in uscita 5 volt, che è il nostro livello di scala superiore che può leggere il micro. Quindi, se noi andiamo a moltiplicare questi 20 millivolt in uscita a 500 gradi per 250, abbiamo proprio che in uscita otteniamo 5 volt. E scegliendo questo guadagno, noi abbiamo aumentato di tantissimo la sensibilità della lettura di temperatura. Infatti, adesso il nostro microcontrollore sarà sensibile al mezzo grado di aumento di temperatura. E questo calcolo è facile da fare, perché se mettiamo in una semplice frazione 0,5 volt, che corrispondono a 0 gradi, 500 gradi, e, ripetendo, essendo un microcontrollore con un ADC a 10 bit, quindi 1024 divisioni, corrisponde che a ogni salto di lettura del micro, lui individuerà mezzo grado di differenza. E questo è davvero una sensibilità altissima che viene ottenuto appunto grazie a questo circuito di preamplificazione. Per mostrarvi quanto vi ho fin qui detto, quello che farò adesso sarà andare a mettere questo circuito su una breadboard e poi, tramite una termocoppia di tipo K che possiedo qui in laboratorio, andremo a fare dei test per verificare che in effetti il circuito funziona e che i valori letti in uscita siano congruenti con la temperatura letta in ingresso. Ho montato i componenti sulla breadboard, come amplificatore operazionale ho scelto l'LM358, che è abbastanza generico. Per eseguire il test, inoltre, ho montato la sonda K, la sonda con la termocoppia di tipo K, a una distanza nota davanti a un asciugacapelli. E andremo a vedere se la linea dell'oscillo scoppio si muove oppure no. Accendo. Ecco qui, il valore si è alzato e il valore letto medio è di circa 630 millivolt che corrispondono circa a un 50-60 gradi. Ok, provo a misurare la temperatura con lo strumento. Ho connesso adesso la termocoppia allo strumento e riaccendo il phon. Beh, la temperatura è un po' più alta Molto più alta Ma mi sembra strano che sia così alta davanti a un asciugacapelli Non brucia 90 gradi mi sarei dovuto bruciare il dito Ho riportato sul foglio i dati che abbiamo raccolto nel test precedente Ovvero con l'oscillo scoppio abbiamo misurato una tensione di uscita dal circuito di 630 millivolt che considerando il suo guadagno di 251 e rapportandolo quindi al valore di tensione vero della termocoppia e ingrociandolo con i valori letti sul grafico ottengo che il valore di temperatura equivalente è di 63 gradi mentre con lo strumento abbiamo letto un valore di 94 gradi Io credo che però entrambe le misure siano corrette ovvero ho verificato il circuito con una tensione di ingresso nota e in effetti il guadagno effettivamente è esatto ovvero 250, 251 quindi credo che in realtà la temperatura che misurava la termocoppia e che uscisse dal fono sia 94 gradi perché lo strumento di solito quello lì non mi ha mai tradito quindi credo che sia 94 gradi ma non credo che invece la sigla riportata sulla sua sonda sia K o magari il grafico che ho trovato in rete si rifaceva a una sonda K specifica di qualche produttore insomma la morale qual'è? che lo strumento di sicuro sarà stato tarato con quella termocoppia già inserita dentro e noi in effetti non sappiamo quali sono i valori letti di quella termocoppia quindi è molto probabile che il nostro circuito stia leggendo bene ma che siamo noi a non avere la scala giusta per decifrare il valore di temperatura quindi credo che poi in fase di realizzazione e di ultimazione del progetto sarà necessario un piccolo procedimento di taratura perché in effetti anche la termocoppia presente nella pistola d'aria calda non è detto che sia K, N o che rispetti i valori lineari di quelle termocoppie quindi è probabile che possono essere delle termocoppie custom di qualche produttore cinese i cui valori non ci sono noti quindi non abbiamo una tabella di conversione e quindi saremo costretti ad andare noi a tarare punto per punto quei valori magari rifacendoci a valori noti quindi per esempio misurerò la temperatura in uscita dalla pistola con la termocoppia e in questo modo sarò in grado di correlare il valore di tensione letto con la termocoppia interna con il valore di tensione letto per quanto riguarda invece la realizzazione dello schedino ho deciso di non saldarlo ancora in quanto visto che si compone solo di tre componenti alla fine quindi le resistenze e l'amplificatore operazionale credo che poi lo salderò direttamente sulla scheda sullo schedino del micro in quanto sono davvero tre componenti quindi per il momento lo otterò sulla breadboard e poi lo salderò lì sopra una volta che inizieremo la realizzazione dello schedino che penso si sarà o nel prossimo video o in quello dopo va bene per questo video è tutto alla prossima